Ah sono loro ma vanno a dormire che è ora Signore senta guarda Tenga c'è posta per lei Sono già due giorni che è arrivata Quando arriva la posta la metto sempre qui Grazie Ci dia un'occhiata anche lei perché io me lo dimentico Sì grazie Ha fatto stese eh Davà a porta Scusi eh buongiorno Grazie 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 Grazie